E quando erate giù? Fesi che erano le scarze, che vedi? Oh! Contaci che! Era la nostra cosa, la nostra passione, perché non c'era mica l'usamento. Noi, la televisione non c'era mica l'usamento. Noi, la televisione è posto. La sera andavamo a Beglia e ci aggegna trovavamo. La ggegna ha la mamma di Dingue. Quella era come una stella. Ci feceva bevuta. Una volta che aveva due aure, aveva detto a cavallo un montone che aveva fuoco. E noi, i capelli dritti, eravamo tutti insieme. 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 L'usamento di venticchi. C'era il bubo. Eravamo tutti insieme. Sì, sì. Eravamo tutti insieme. Eravamo tutti insieme. Eravamo tutti insieme. Eravamo tutti insieme. Ma solo per andare insieme. Eravamo tutti insieme all'usamento. e li facevamo un po' qui tutto. No, io non l'ho mai messo un mattino. No, 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 no. Conte a me sei andato un 70 o un 69 di qui, no? So, dopo l'anno con la pomerchetta. Iiii, iiii. In una casa di riposo, me lo scappavano giù, se ne tornavano tutta con me. Vieni a prefentare gli uomini. E doveva sempre l'occasione. Conte a me feceva un po' il scopo. Mh. Ma la picoria non ero qua. Ero un po' gli aggini. Poi... Ca' gli aggini o qual era? Stava un tipo di uova in marco, di marco diverse. Ah, d'accordo. C'erano due aggini, un suolo. C'era Rascogno. Rascogno? Non lo sapeva dire Rascogno e qual era? O aboneggio a chi? No, quando eravamo tornato a scuola, avevamo due agente di un cimicci qua. Invece ci venivano un pezzo culo, così era bello, tutti i cani. Cioè non c'era l'uomo, l'uomo, un po' a cuova verde. Un po' con le taccioni, mi ha detto, una merda, una merda! E poi saltavano. Dove c'è muerto una qualità, appena il filetto era contente di inviare. Avevamo anche apposta quanta meno. Noi eravamo niscenti, avevamo anche apposta per parceria. E...